Credo di aver trovato il modo per porre fine alle tante polemiche che hanno accompagnato il lancio di Biomutant Wanted Raccoon Per questo titolo devo ringraziare parecchi di voi che me l'avete segnalato Sia in privato sia nei commenti Gioco che potrebbe riservare più di qualche sorpresa per cui io andrei Il procione ricercato Che premessa meravigliosa Allora Primo obiettivo, svegliarsi Mi sono svegliato Mi devo, no, mi devo accoppiare, è vero in questo momento Posso dialogare Salve Vecchio Joe Vedi il vecchio Joe, ha pure occhiali Oggi è un giorno speciale È il giorno in cui diventerai il mio successore Prendi il mio zaino E vai a vedere se Nutter si ha bisogno di aiuto Dunque Insomma, delle notizie importanti Qualcosa di stanno sta succedendo Ai confini della foresta Credo che tu e Jack dovresti andare a vedere Emo chi è Jack Ci sono i bulldozer Stanno buttando giù la foresta Ecco cosa stava accadendo Stanno a fregare tutta la famiglia Pazza che camminata fluente Balle il boogie woogie Mentre Uno E due Manca l'ultimo E tre Andiamocene di qui Il momento drammatico Nooo Addirittura Ma hanno abbandonato qui Dove mi trovo Si Ti è Beccato Ah beh Così secco E che c'ho Un tasto Ah l'ho legato Ma perché questo effetto di Metal Gear Vabbè Ho capito Fammi prendere Niente Chi è Ma perché Ma perché Ma perché questa Vabbè Eeeh Si diceva Uno Niente È arrivato un altro Walker Texas Ranger L'hanno svegliato Io non capisco dove sta il tipo Ti è Ma qual è il problema Ma perché Ma cosa succede Mi sono riaddormentato Ma Ma di quale malattia Sto soffrendo Io in questo momento Vabbè La faccio stealth Attenzione Allora Che devo prendere Che devo prendere Ma cos'è Ma questo è più che un Metal Gear Cioè più che un Biomutant Tiettelo È un È un Metal Gear Tiettelo Hai i pantaloni rotti Se ne accorgono Signor Se ne vada Brava Ah Vai 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 Ok Allora adesso vi devo nascondere Nel secchio Tirati Ah va Quindi Non ho capito Ah stanno trattando Non capisco Al che però Il nostro produzione Si sta facendo un trip Di quelli proprio Epocali Secondo me Eh sì Si S'abbiocca Continuamente Ah Allora posso usare X Per lo skateboard Ma cosa Ma cosa Stracazza No la sto facendo Allora Sì Non mi ferma Più nessuno Ok Quindi Quindi È completamente fuori Di testa Questo gioco È completamente fuori Di testa Vabbè Arrivederci Io volo Arrivederci Tutto fatto Che drammaticissimo Sto gioco Attraversa la strada Vado Ho appena commesso Un duplice omicidio Con l'idrante Allora Adesso posso Far cadere L'acqua Ma che Ma perché Bene Ok Allora Chesa chiave Chesa chiave Ah ecco Ok Fatta Quindi Ma cos'è Ma cos'è Bene Arrivederci Aiuto Allora E per uscire Ciao vecchio Joe Ce l'ho fatta Sì Ecco adesso Bisogna C'è la grande fuga Adesso C'è la grande fuga Tiè Allora ragazzi ma c'è C'è Questo potrebbe essere Anche un fallout Ti ettelo Dopo questa cosa Dovrei evitare Dovrei evitare le persone Bene Allora Io su questo salto Dell'olio cuore Per mettersi seduto A guardare il nulla Quindi depressione pura Mi fermerei per ora Ragazzi lo so che questo è un Tietelo Però Potrebbe diventare anche qualcosa di più Sta a voi Fatemi sapere Io intanto ringrazio Tutti coloro che mi hanno consigliato Wanted Dracoon Perché sembra veramente essere un capolavoro Di 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 Tre Schume Ma Quello che piace a noi Che poi d'altro non è manco un brutto prodotto A conti fatti Però Fatemi sapere E noi ci aggiorniamo Alla prossima